Ancora non ho proprio, cioè da quello che si dice, al momento più che un capitano è un capitone perché sta faiendo. Quindi voglio dire, ora vediamo che succede, capiamo effettivamente quali sono le motivazioni, capiamo effettivamente, anche perché ho sentito delle cifre incredibili, poi sappiamo com'è. Però al momento quello che ti posso dire, concentriamoci sulla partita e non ci facciamo prendere da altre cose perché è fondamentale questa vittoria. Quindi siamo forza Napoli e viva sempre il calcio Napoli tifoso. Grazie.